No, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello vedervi qui tutti venerdì sera, è bello vedervi sul nove, è bello lavorare sul nove. Io l'ho capito sette anni fa che era bello lavorare sul nove, poi è arrivato chissà cà e poi dicono che adesso arriverà anche questo qua. Amadeus, lasciarai la decisione di passare a Discovery a un passo. Fratelli, no, però a parte gli scherzi, io sono contentissimo di questa cosa qua, mi piace Fazio, Amadeus, siamo partiti che eravamo lo sgabuzzino della tv italiana e adesso il nove sembra Lampedusa dove tutti arrivano. Ma non c'è da ridere, perché io diventerò sempre più marginale. Praticamente farò la fine di Di Maio prima di tutto, cioè faccio con la fine lì. Buonasera Presidente Meloni. Ciao caro. Ecco, cominciamo con una cosa che è sotto gli occhi di tutti e io ho l'obbligo di chiedergliela. Posso chiedergliela a Presidente Meloni? Tranquillo Brunè, ma che c'hai paura? No, è che si tratta di una domanda un po' forte. Vabbè, dai, tu fammela. Io mi causo paura delle domande forti. Bene. Io ho le spalle grosse. Allora vado, direi. Vai Brunè. Ecco, Presidente Meloni, come fa a giocare così bene a pallavolo? Perché io ho visto... Che carino che sei Brunè. Grazie. E come faccio? Ehi. Come faccio? No, perché quel bagger, io non ho mai visto un bagger così forte. Ma sì, perché io avevo sto talentino da piccola. Sì. Che ero bravo a ricevere, no? Certo. Quando le lungagnone, sai le lungagnone che battono? Beh, sì, battono forte. E io col bagger, siccome so bassettina, rispondevo. Certo. Comunque mi sono divertita, perché dopo il Consiglio dei Ministri, do io no, Consiglio dei Ministri, Salvini che te fracassa con sto cavolo di ponte. Eh, immagino. E poi te devi mettere ad approvare il bilancio, do io no, do io no il bilancio, che non c'è proprio una lira, do io no. Faticolo. E poi telefona a Cionze. Sì. E rispondi a Macron. Do io no. Non è facile. Non è facile. Rispondere a Macron. Sono uscita, che ero distrutta. Mi sono trovata la nazionale di pallavolo. Ho fatto due leggi con ste pennellone. Mamma mia, Presidente Meloni, come deve essere difficile, pensavo, fare il Presidente del Consiglio, saper governare bene e avere attenzione per tutti e poi magari sentirsi criticati, no? Perché poi... Eh? Come? Che hai detto? Quando, scusi? Adesso che hai detto? Hai detto criticati? No, io... Criticati da chi? No, ma io dicevo così. Cionello, chi è che mi critica? No. Tu forse mi vuoi criticare? No, 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 per me lei è una figura iconica, è la rappresentazione plastica del buon governo, è la perfetta statista per quanto mi riguarda. E allora perché hai usato il termine critica? No, io l'ho sentito dire una volta da Floris. Tu vai da Floris? Ma perché? Tu guardi Floris? No, mai. Ogni tanto. Certo che se uno, per assurdo, volesse fare delle domande al governo, qualche curiosità potrebbe anche togliersela, no? Tipo, ma davvero volete un altro condono? In arrivo la pace edilizia, Salvini studia il condono. Ora, il condono lui lo chiama pace edilizia. Invece la sanatoria delle cartelle esatoriali la chiamava pace fiscale. Tutte le volte che si avvicinano le elezioni, Salvini diventa più pacifista di Gandhi. Lui non vuole vincere le europee, no? No, ma lui non vuole vincere le europee, lui vuole il Nobel per la pace. Pare che con questo condono, che questo condono riguardi solo le opere interne, però, attenzione, qualche finestra, le verande, non si sa, per ora è solo una bozza. Si sa solo che lui dice di essersi già confrontato con chiunque, dagli ingegneri agli architetti, dalle cooperativa ai comuni e che sono tutti d'accordo sulla norma. Tutti, 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 tranne una che evidentemente per lui è un optional. Fammela vedere. Condoni edilizia nevano, Meloni, non conosco la norma. E quindi? Salvini, buonasera. Salvini, cosa sta facendo? Posso aiutare la signora Balenghi a buttare giù la tramezza per ampliare la cameretta del figlio che oggi è accatastata a legnaia? No, se è accatastata a legnaia... Le sto aprendo una finestra in quello che oggi è considerato il tetto. Ma non si può. Poi le faccio anche una cucina in quello che oggi è accatastato a balcone. La cucina sul balcone. Cosa c'è di più bello che spostare la cucina nel balcone? Adesso lei ha preparato il condono. Le soppalco il bagno e un bel forno da pizza nel ballatoio vicino all'ascensore. E quindi? E quindi? Ma non deve farlo lei. Bilocale! Nel garage. Ma no, ma come bilocale? Scavando nella roccia. Ma si potrà? Cosa c'è di più bello che trasformare la cantina in una spa con tanto di idromassaggio, bagno turco e la tailandesina che ti massaggia? Ma non credo si possa. Salvini fai condoni? No. Come no? No. Piccole difformità interne. Devo fare la pratica in comune aspettando mesi, anni? No. No, non più. E come funziona? Da oggi basterà urlare in strada sotto l'ufficio del sindaco. Ehi comune! Hai capito? No. Ho ricavato un maneggio dal secondo bagno. Ma no, ci fanno un po'. 500 euro! Grazie comune! E quindi? No, certo che inventarsi un condono per accattare voti è complicato. In fondo ci sono modi molto più diretti, con meno fronzoli, diciamo, per accattare i voti, no? Palermo, voto di scambio, era stato l'ex consigliere di Fratelli d'Italia, Mimmo Russo. È rabbia, è amore, è Palermo, è arresto. No. No, 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 no. Pare, pare, ragazzi. No, no, cazzate. Pare. Dico pare. Che questo russo, Palermo, era arresto di Mimmo Russo in cambio dei voti, posti di lavoro, ma anche denaro, buoni, benzina o cibo, come merci di scambio con esponenti mafiosi. A me questa notizia sembra esagerata. Però, se fosse vera, farebbe il paio con la notizia di Bari della settimana scorsa. Puglia, voti comprati a 50 euro. E anche con quella di ieri. Fammi vedere. Bari, l'ex assessore regionale Alfonso Pisicchio, arrestato, soldi e voti per gli appalti. Bari raddoppia. Buonasera, Antonio Razzi. Buonasera. Un per tre, tre. Io credo che un per tre, tre per tre fa tre. No, 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 no. 8 per 8, 88? No, 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 ma no. E porto l'8. Buonasera intanto, ma non capisco. State zitto, prego. State zitto, non mi distrarre che sto facendo i conti. Ah, erano conti quelli. Mannaggia, avevo riportato l'8, ma dove neanche l'ho messo l'8? No, ma è un modo di dire. Ce l'hai tu l'8? No, stava riportando. Dai, tira fuori l'8, amico caro, ti prego. Non ce l'ho, 8 cose. Io vengo qua e faccio l'intervista, ma tu mi tirami fuori l'8. Non c'ho l'8. Non ti ho mica detto il cazzo, ti ho detto l'8. Tirati fuori l'8. Non puoi fare così. Amico caro, dammi l'8. Stiamo calmi, Razzi, per favore. Non ho capito cos'è l'8, di cosa sta parlando. Tu qua, se io ne ho 60.000 per 50, più la somma dei cateteri. No, i cateti, se vuole parlare di matematica sono, vabbè. Il fratto per l'ipotenutria. L'ipotenutria, lo so cosa sia. Fa 3 in Italia, fa 30.000. No, no, no. No, a me piace rappresentare Razzi perché lui conosce meglio di altri le caratteristiche dell'italiano medio. L'italiano medio è furbetto, opportunista, vive di intrighi, di scappatoie e come possiamo pensare che poi però il politico che ci governa sia diverso dall'italiano medio? Ma possibile che non esista un politico illuminato, un'anima pura che ci possa salvare da questo baratro morale? Sì che c'è. Sì che c'è. Esiste. È lui. L'impegno politico è prima di tutto spirituale. Che pensiero bellissimo, Carlo Calenda. Il pensiero nobile di Carlo Calenda. Grandissimo. Lui non vuole ammucchiate. Per lui la politica non è un fatto di aridi, numeri. È spirituale. È stato prima con. Confindustria. Poi col PD. Poi con Labonino. Poi con Renzi. E adesso fa il puro e l'immacolato. Non si allea né con Renzi né con Labonino. La solitudine di Calenda. Io matto contro l'intero umano meglio di certi accordi. Chapeau. Buonasera. Buonasera Calenda. Vedete? Vedete il termine della vita? Sì. Della vita. Quello che rimane di noi. È ciò che facciamo di grande. Sì. Circerone. Bella frase. Bellissima. Molto. Ma io ho lasciato qualcosa di grande? Ehm. Beh. Ho lasciato qualcosa di grande io? E non lo so lo dica lei. No. Ah. No. Ho capito. Se lo dice da solo. Scorciatoie. Cosa? Ho preso Scorciatoie e Bonino prima. Sì. E Renzi poi. Ha fatto alleanze. Ho cercato solo Scorciatoie. Sì. Per convenienza. Però sono calcoli. Ma se cerchi Scorciatoie per convenienza poi ti perdi. Questo è vero. Perché io ero accecato dal potere. Addirittura. Ma ce l'ho mai avuto il potere io. Io scherzo tanto ma la politica è un sacrificio. È una missione. Non credo per conto di Dio. Comunque. Però comporta delle rinunce. Rinunce soprattutto economiche. Sentite cosa. A cosa hanno rinunciato codeste star della politica italiana. Fammi sentire. Vedi io sono libero. Io vengo da Ferrati, da Sky. Guadagniamo un sacco di soldi. L'ultimo stipendio ho avuto un milione di euro l'anno. Non faccio la politica per i soldi. Con la politica non mi sono arricchito. No. Guadagnavo di più come professore ma soprattutto come avvocato. Allora io prima di fare il parlamentare e fare il ministro guadagnavo di più di quanto faccio da ministro. Molto di più. Tanto di più. Cioè ci stanno rinfacciando che entrando in politica si sono impoveriti. E la domanda che sorge spontanea è ma chi cazzo me l'ha chiesto di entrare in politica? Se vuoi avere successo nella vita devi essere bello. Perché se sei un mostro non puoi avere successo nella vita. Cazzo. Guarda lui. Guarda qui. Ti sembra? Fai vedere. C'è un dente sì e quattro no. Ma chi se ne frega dell'aspetto fisico. Ma non può fare qualcosa di importante nella vita. Ma anche se è un bravo ragazzo. Ma non voglio diriderlo. Però lo sta facendo. Sono un pragmatico. Guarda lei. Lei è caruccia. La vedi? Guarda. Vieni più dentro. Lei è caruccia. Ma non è così figa da poter diventare la principessa di Monaco. Ma perché annuisce? È pragmatismo. Sono figlio di camionisti. Ho capito. A lei così magari lei le apri una stireria. Ma chi se ne frega. Non è bello vedere la stireria. Ma non la puoi far diventare principessa. Ma che ragionamenti sono? Scusi. Ma dico questo. Lo sai perché dico questo? Perché dice queste cose assolutamente. Perché io ho un patrimonio da 3 miliardi di euro. E vabbè. Buon per lei. E va bene. E se continuo a fare sta voce qua. Sì. Mi distruggo la gola. Esattamente. Vai a fare in culo te e tutti i tuoi amici. Fratelli, a pochi giorni dall'inaugurazione qui a Milano si avverte già un fermento pazzesco. Un'euforia incredibile. Ma soprattutto... Milano affitti record per il salone del mobile. Prezzi delle case triplicati in Brera. Canoni medi da 5.700 euro a settimana. 5.700 euro. Nelle altre città è caparra confirmatoria prima del rogito. Cioè con 5.700 euro a settimana come minimo mi devi dare una navata del Duomo, cazzarola. Se no sei un ladro. Diciamo che Milano è proprio una città fatta misura di giovani coppie. Buonasera, sindaco Sala. Povera Milano. Cosa c'è? Povera Milano. C'è tutto il mondo che vuole venire a Milano. E certo, bello. Ma Milano non è attrezzata per tutta la gente che vuole venire a Milano. Ma come non è attrezzata? Povera Milano. Ma non è povera Milano. Deve vedere che fatica che fa Milano. Ma non fa fatica Milano. Siamo messi così male. Un brutto momento. Così non l'abbiamo mai visto. Povera Milano. Ma così si lamenta. Uno dei miei mi ha detto che vogliono fare questo salone del mobile fuori salone. No, ma non lo vogliono fare. Povera Milano. Lo farete la settimana prima. Ma Milano... È un grande evento. Ma Milano non è attrezzata per reggere i grandi eventi. Ma sei famosa ma Milano non è mica forlì. Buonasera Feltri. Allora, senta Feltri, mercoledì l'Europa ha approvato un patto sui migranti che Ursula von der Leyen ha definito storico. Io giovedì ho fatto l'inventario delle varici che ho sul polpaccio. Ma cos'è dice? Non so, da come è partito lei pensavo che giocassimo a dire una cagata per uno. No, no, ma per favore. No, non cominci, per favore. Non cominci, la prego. Non è una cosa... è stata approvata una cosa in Europa e ha fatto un accordo storico. Non sono io che ho cominciato, lei che ha cominciato. No, però... Da quando in qua l'Europa fa cose concrete. Vabbè, a volte è vero che però... Ma poi quali patti sui migranti che ormai tanto pure Giulietta Capoletti la fa una gianduiota fondente della Balubandia. No, no, no. Ma si può. Allora, si riferisce alla notizia che nel ruolo di Giulietta è stata scelta un'attrice di colore. Ma vabbè. Ma vabbè è una cipa. Ma perché? Con una congolese sul balcone il pubblico penserà che Romeo stia parlando con la Golf. No, no. Ciao fratelli, questa puntata finisce qui, ci vediamo venerdì prossimo. I love you, vi voglio bere, buonanotte. Si vada per Fiore Band, Andrea Zalone, my friend.